vi faccio vedere quante farfalle sono arrivate nel terreno irrigato da poco spettacolare guardate da quest'altra parte guardate il bello è che non hanno neanche paura più di tanto sinceramente non so se che cosa stanno prendendo da mangiare qualcosa forse nel terreno irrigato in mezzo al limo chi lo sa cosa trovano la natura ci sorprende sempre guardate non c'è bisogno di commenti ciao 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 ciao